Ciao a tutti, sono Luca Maria Lucini del Flycycling Team, mi trovo qui al giro e per il secondo anno consecutivo con il mio team, il nostro main sponsor del team è il Centro Diagnostico Italiano di Milano e la nostra partecipazione appunto vuole vedere il nostro team qui appunto per dimostrare che tutte le persone che hanno una patologia diabetica possano competere o comunque divertirsi andando in bicicletta e quindi il messaggio che vogliamo portare con il nostro team è far sì che tutte le persone che abbiano questa patologia possano vivere una vita il più possibile tranquilla e senza nessun tipo di privazione perché lo sport fa bene, lo sport è importante e questa occasione e questa manifestazione con un discorso anche di biciclette elettriche non può che aiutare questo nostro messaggio che vogliamo portare avanti. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti.